Ciao ragazzi! Oggi purtroppo piove e il cielo non promette davvero niente di buono. Vi presento la mia amica Kat! Ciao a tutti! Sono contentissima di essere qui! Ok Kat, racconta a tutti come ci siamo conosciute. Io ero un vero disastro! Beh, quando Noah ha preso Lemon, ha subito realizzato che i cuccioli sono un vero e proprio lavoro! Anche per Lemon era difficile gestirla all'inizio. Era fuori controllo! Allora ho contattato i fan di Herdorables chiedendo aiuto per un addestramento base. E io ho risposto subito! Il suo cane riesce a sussurrare! Non è uno scherzo! Serve solo del tempo e alcuni piccoli accorgimenti per adorare tutto dei cuccioli! Le loro coccole, l'addestramento, il modo in cui dormono... Non mi dà fastidio nemmeno pulire dopo che i cuccioli hanno fatto... Non sta scherzando! Restate sintonizzati per i trucchetti di Kat! Non dimenticate di mettere mi piace, commentare e rimanere hashtag Herdorables! Ciao!